Ci stiamo lavorando, c'è un affare assegnato alla Commissione Cultura del Senato che riguarda i beni esportati illecitamente. Così il senatore presidente della settima commissione permanente Riccardo Nencini in visita a Fano oggi per annunciare le novità sull'Isippo. L'atleta vittorioso di proprietà dello Stato italiano, ma ancora il Getty Museum di Malibu, che nonostante la sentenza definitiva della Cassazione, nega ogni disponibilità a restituire la statua di bronzo. L'importante intanto è mettere in campo l'autorevolezza del governo italiano, le nostre relazioni diplomatiche, per raggiungere questo obiettivo. Ognuno farà, ne sono convinto, la sua parte. Nencini, che in mattinata ha visitato alcuni luoghi e monumenti più suggestivi della città, come la chiesa di San Pietro in Valle, l'ex chiesa di San Francesco e il museo archeologico, si è recato anche al Teatro Romano, definito dal senatore un'opera straordinaria. Una parte è già scavato, si collega perfettamente anche con il piano di sopra, che è la Filanda, quindi l'archeologia industriale. So che il sindaco sta già immaginando una progettazione veramente bella, me ne ha parlato, ma non ho visto carte. Però non è una questione soltanto di Fano, cioè è di Fano il teatro, ma ha caratteristiche tali da rappresentare un bene che va ben oltre i confini anche regionali. Soddisfatto della visita al sindaco Massimo Seri, che con Nencini ha incontrato la stampa e le istituzioni a Palazzo Malatestiano. Sindaco, continua questa vostra battaglia per riportare a casa il Lisippo. Quale potrebbe essere il contenitore più adatto per ospitarlo? Intanto non è una battaglia della città di Fano, ma è una battaglia del paese, perché appartiene al nostro patrimonio e io ritengo sia giusto che ritorni in Italia. Con Fano c'è un legame fortissimo, tant'è che è l'atleta di Fano e noi saremo pronti già oggi stessi ad ospitarlo, perché abbiamo uno spazio come la Sala Morganti, che ha già ospitato i disegni originali di Leonardo, e quindi più che adeguata, ma soprattutto in prospettiva anche sugli investimenti che stiamo facendo, come l'ex Filanda, che ospita anche il Teatro Romano, quindi area archeologica indicatissima, anche con un nuovo contenitore che potrebbe diventare un attrattore mondiale. Ecco appunto, anche proprio sul Teatro Romano ci sono delle novità, ha detto che stanno uscendo delle cose interessanti e forse potrebbe essere aperto al pubblico già da quest'estate. Questo sì, ma quello che mi piace sottolineare è la maestosità di questo patrimonio, che dimostra cosa Fano in Fortuna rappresentava nel periodo dell'antica Roma. Un tesoro importantissimo, sulla quale noi facciamo grossi investimenti, però anche la visita di oggi ha un obiettivo particolare, quello di far comprendere che non è un patrimonio della nostra città o della nostra regione, ma è talmente importante che riguarda il Paese.